Wow, chi è questo bimbo? Fai vedere che ventaglio che hai? Sì, che è stato un po' Sì, non è così, non è così Cosa è vero? Allo? Sì, è vero? Sì. Ciao, ciao. Sì, è vero. Rai e il finestra, i bimbo e i bimbo. I just had some of the most amazing news I'm gonna tell them soon I'm not allowed yet But this is so awesome